iniziamo con questi video per vedere come è strutturato scratch e come possiamo utilizzarlo non andremo a vedere in questa guida iniziale i vari blocchi come si utilizzano per quello rimandiamo ad altri video ma vediamo proprio cosa sono gli sprite, cosa è lo stage dove sono i costumi dei vari sprite, gli sfondi per gli stage parliamo insomma in maniera generale di scratch quindi è volutamente una guida introduttiva a questo ambiente per utilizzare scratch abbiamo due possibilità la prima è attraverso il sito principale scratch.meet.edu e utilizzare questo applicativo o questa piattaforma direttamente online cliccando sul pulsante crea oppure inizia a creare viceversa la seconda opportunità è quello di se desideriamo lavorare offline di scaricare il software e installarlo sul pc per scaricarlo dovete andare in fondo la pagina qui sotto c'è supporto trovate editor offline la versione attuale è la versione 3 che si chiama scratch desktop da questa pagina poi è possibile scaricare anche le versioni precedenti la versione 3 funziona attualmente solo con sistemi windows e macOS lavorare online offline non cambia di molto perché è uguale identico la piattaforma la diversità dell'utilizzo online è data dal fatto che possiamo anche registrarci e quindi con questo pulsante unisciti oppure unisciti alla comunità di scratch qua in alto è una registrazione molto semplice non richiede grossi passi il registrarci ci permette di salvare automaticamente il lavoro che facciamo online e poi di condividere il lavoro quindi entrando a far parte della community possiamo mettere a disposizione degli altri anche i lavori che noi sviluppiamo è interessante questa parte chiaramente perché accediamo anche non registrate in questo caso accediamo a diverse risorse condivise da altri utenti e possiamo studiare come è stato risolto un eventuale problema da altri oppure semplicemente per trovare un'ispirazione per un lavoro che magari non avevamo mai pensato oppure trovare un'ispirazione per risolvere un piccolo problema per registrarsi basta come dicevo cliccare su questo pulsante o quell'altro che trovate sempre all'inizio della pagina la diversità tra registrare e non registrare è proprio data dal fatto che se non mi registro non viene salvato automaticamente il lavoro ma ogni volta devo scaricare il lavoro fatto sul pc ho già aperto la pagina di scratch quindi cliccando su crea appare questa pagina la prima volta che entrerete sarà in inglese se desiderate portarlo come in questo caso in italiano basta cliccare su questo mappamondo stilizzato e cercare la lingua opportuna come vi dicevo nella versione online non registrata è uguale identica alla versione offline quindi quella che andrete a installare se non mi registro e non mi loggo, non entro troverò nel menu file solo queste tre voci nuovo, carica dal computer e salva dal tuo computer viceversa se mi registro troverò altre due voci una che mi permette di salvare ora vi dicevo che quando voi create un lavoro o comunque lavorate sulla versione online e siete loggati il lavoro viene salvato automaticamente tuttavia c'è un comando per forzare e quindi anticipare il salvataggio che compare qui in mezzo l'altra funzione che appare quando noi ci registriamo è quella di poter creare una copia di un lavoro quindi sostanzialmente duplichiamo un nostro lavoro altra cosa interessante è la possibilità poi di andare sul lavoro di qualcun altro e poi lavorarci e crearne una copia l'utente che ha creato il lavoro verrà avvisato poi che abbiamo realizzato un duplicato del suo lavoro e ci lavoreremo sopra tutte queste cose si possono fare solo e esclusivamente se ci registriamo alla piattaforma sempre il primo avvio troveremo che ci viene aperto questo tutorial iniziale che è un piccolo video che possiamo utilizzare per imparare a utilizzare scratch ce ne sono anche degli altri che troviamo cliccando torno indietro sono tanto veloce cliccando sul tutorial abbiamo a disposizione anche degli altri tutorial per imparare a vedere come fare determinate cose quindi qui proprio vediamo come si utilizzano gli sprite gli sfondi cambiare dimensione il movimento con la webcam e così via divisi per categoria divisi per categoria questa schermata tipologia di schermata vedrete è simile anche ad altri ad altre parti di scratch dove tutte le varie risorse che abbiamo a disposizione sprite sfondi tutorial suoni sono divisi generalmente per categoria e ci vengono mostrati inizialmente tutti quindi in ordine alfabetico clicchiamo sull'indietro vediamo un attimo come è strutturato l'ambiente allora abbiamo una barra di menu là in alto nella versione offline questa parte non c'è poi abbiamo tre tabs tre schede in una abbiamo la scheda del codice con i vari blocchi e poi andremo a vedere divisi per categoria i blocchi che si trascinano nella parte centrale e dove andranno composti abbiamo poi la scheda dei costumi e dove riguardano in questo caso i costumi del dello sprite e poi abbiamo la scheda suoni riguardanti sempre lo sprite in questo caso torno indietro su codice qui sotto abbiamo le categorie dei vari blocchi abbiamo movimento aspetto suono situazioni controllo sensori operatori variabili e i miei blocchi movimento serve per far muovere sono i blocchi che ci danno la possibilità di muovere il nostro sprite all'interno di quello che noi chiamiamo stage uno scenario un palcoscenico poi ne parleremo in maniera più approfondita l'aspetto riguarda sempre le parti dell'aspetto dello sprite quindi non so per fargli dire qualcosa piuttosto che per passare da un costume all'altro quindi creare delle animazioni cambiargli la dimensione suono tutto quello che è arrivato al suono quindi fare mettere dei suoni alzare abbassare il volume situazioni invece sono gli eventi associare un evento a una determinata sequenza di blocchi quindi ad esempio possiamo programmare che quando clicchiamo sulla bandiera verde succede una situazione vengono attivate delle sequenze di comandi quando invece clicchiamo su un pulsante della tastiera cosa succede e così via in control abbiamo dei blocchi molto importanti che sono sostanzialmente i blocchi che riguardano le ripetizioni i cicli le condizioni il se allora se allora altrimenti attendere fino a quando ripetere fino a quando bloccare gli eventuali script sensori sono quei blocchi che ci permettono di interagire con l'ambiente quindi ad esempio se sta toccando il puntatore del mouse piuttosto che sta toccando il bordo o se aggiungiamo degli altri sprite se sta toccando qualche altro sprite se sta toccando un colore e così via in operatori abbiamo tutti gli operatori matematici e anche logici quindi se è maggiore se è minore abbiamo ad esempio il resto abbiamo blocchi per unire delle parole numeri a caso pseudo casualità poi abbiamo questi blocchi arancioni per quanto riguarda le variabili e le liste in altri video avremo modo di parlare di questa cosa e i miei blocchi invece è la possibilità di creare dei blocchi come le altre categorie quindi o meglio creare un mio blocco riutilizzando le altre gli altri blocchi quindi quelli che potrebbero essere nei linguaggi più evoluti di programmazione potrebbero essere paragonati alle funzioni o alle procedure ancora se ci fate caso andando in variabili vedo le variabili ma vedo anche i miei blocchi non a caso in versione scratch 3 ho la possibilità non più solo di filtrare e andare ai blocchi opportuni tramite questi pulsanti colorati ma ho la possibilità anche di scorrere i vari blocchi direttamente da questa parte dell'applicativo quindi posso anche scorrere direttamente oltre a questi blocchi posso aggiungere degli altri con questo pulsante qui in basso a sinistra aggiunge un'estensione cliccandoci sopra vengono caricate tutte le estensioni attualmente disponibili ad esempio abbiamo l'estensione penna che nelle versioni precedenti era integrata direttamente nei blocchi predefiniti in questa versione invece sono stati spostati come facoltative abbiamo i blocchi per la webcam quindi utilizzare se abbiamo a disposizione una webcam utilizzare il movimento davanti al webcam per interagire con scratch una funzione interessante è da testo a voce viene utilizzato un web services di Amazon vedete che richiede una connessione sostanzialmente si scrive un testo e scratch pronuncia questo testo in base alla tipologia di voce che noi scegliamo traduci anche qui è richiesto una connessione in internet in questo caso utilizziamo il servizio di traduzione di Google Makey Makey questo piccolo strumento hardware per collegare vari oggetti con il nostro ambiente quindi ad esempio della frutta e creare una tastiera piuttosto che un joystick microbit in questo caso vedete che richiede bluetooth e una connessione ad internet quindi sostanzialmente colleghiamo sia nel microbit che nel lego mindstorms e anche con le lego boost oppure le lego education e ancora con go direct force dobbiamo sempre avere bluetooth e connessione perché possiamo collegare a scratch questi dispositivi hardware, i vari robottini della lego piuttosto che questi microcontrollori microbit e creare un'interazione fisica con l'ambiente scratch, basta scegliere ad esempio clicco su penna e vedete che vengono aggiunti i blocchi della penna e che poi posso trascinare per concludere il discorso dei blocchi, come si utilizzano, basta scegliere la categoria che ci interessa, normalmente si parte con un blocco situazioni, quello degli eventi posso anche zoomare, sposto e a questo punto prendo i vari blocchi ad esempio quando si clicca il per sempre e così via vedete che spostandoli poi si agganciano uno all'altro, per non farli agganciare devo tenerli distanti, si agganciano come fossero proprio i blocchi delle lego un po' questa cosa riflette quel mondo, proprio perché si ha un ambiente familiare per i bambini, per i ragazzi e anche per noi adulti per cancellare un eventuale blocco basta fare tasto destro e cancella questo blocco oppure basta trascinare il blocco di nuovo nella parte da dove l'abbiamo pescato e lasciamo in questo modo, si chiude e si cancella o�� a a a